Oggi vi faccio un room tour Soltanto perché ho finito di sistemare adesso Devo flexarlo un po' Questa è la cosa che mi ha richiesto più tempo Cioè tutti questi adesivi qua Li ho ordinati da Shane Ok E boh, questo mi piace un sacco Poi con la cosina di girasoli Perché mi rispecchio tantissimo nei girasoli Capito? Questi sono i 100 film suggeriti dalle star di Hollywood Perché io ho un'ossessione per il cinema Cioè roba che io ascolto i podcast Sulla storia del cinema Mentre mi trucco In caso non lo sapevate, ci sono Questo, vabbè, è quelli che ci sono ad Hollywood Me li hanno regalati mie Quello di YouTube per i 100.000 Anche se li abbiamo strasuperati, grazie mille Marilyn perché è icona E vabbè, la targa di Hollywood Poco fissata Lì metto i vestiti sporchi Povero il popotamo, quante ne sopporto Scrivo tutte le cosine che devo fare Disegno, scrivo delle frasi motivazionali La lavagna per me è fondamentale Questa ci metterei tipo tre giorni A farvi vedere tutto quello che c'è dentro E poi abbiamo messo quello di patente qua Per ricordarmi che prima o poi devo studiare Capito? Hai capito? Se per questo ci avrei messo tipo tre giorni Per questo una settimana Cioè proprio pieno di roba sto armadio La scrivania, vabbè, anche qui ci metterei un po' Qua ci sono tutti i libri Perché non so dove metterli E poi li uso sempre Per cui li tengo qua a portata di mano Qua c'è il calendario che devo ancora riempire Il calendario di sole verifiche Perché poi devo aggiungere il lavoro I corsi Qua sotto ci tengo tutte le decorazioni I libri che ho letto più importanti Dentro questo magnifico specchio Ho tutta la gioielleria Questa è da ordinare ancora Boh basta, questo era un breve room tour Non vi faccio tutto nel dettaglio Perché se no mi serve tipo un video YouTube Logo resti